Come vede lei la televisione? Veramente io preferisco la radio, però comunque... Ho capito, però siamo in televisione. No, io... Bella, mi piace, l'ho fatta. Spero che migliori sempre. Visto che siamo comunque non in televisione e gli piace la radio, a questo punto è doveroso dire. Meglio il calcio o i libri? Sono tutte e due cose belle vissute in momenti diversi. Diciamo che è indimenticabile quello suo sguardo di quel gol grandioso ed è rimarrà indelebili nella televisione, infatti in tante televisioni. Lei si vede qualche volta in quel momento? Ormai non mi vedo più, mi sono visto tante volte. Qualche volta mi ha dato anche fastidio perché mi sembrava di esagerare e poi adesso è passato. Signor Tadelli, signor Tadelli, squisito, vedo che deve andare. La ringrazio moltissimo. Grazie a lei. Grazie a lei.